E' già tempo di derby. Al Partenio Lombardi arriva la Salernitana per la nona giornata di Serie B. I Granata sono reduci da due pareggi consecutivi. L'ultimo casalingo contro Lascoli è finito a reti inviolate. La squadra del patron Lotito non vive un momento esaltante. Attualmente occupa la diciassettesima posizione in classifica, con nove punti, frutto di una sola vittoria. Sei pareggi ed una sconfitta. Gli uomini di Bollini hanno siglato ben dieci gol e ne hanno subiti nove. Dunque pochissimi problemi a segnare, ma tanti invece in difesa. Nell'ultimo match di campionato Bollini ha avuto problemi di formazione. Infatti, a causa delle nazionali, erano molti gli assenti, oltre agli infortunati. Rientrerà sicuramente in gruppo il portiere serbo Radunovic, ex Avellino, ma non avrà la certezza di una maglia da titolare, vista l'ottima prestazione dell'estremo lituano Adamonis. Passiamo al campo. Sono ancora tantissimi dubbi, anche di modulo per l'allenatore Lombardo. Il 3-4-1-2 nell'ultima gara ha dato sicurezza in difesa e quindi al partenio Lombardi potrebbe rivedersi l'undici schierato contro i bianconeri marchigiani, che prevedeva Adamonis tra i pali, difesa a tre, con Mantovani schiavi e vitale, in mediana di Roberto Ricci, Minala e Zito. In avanti, sprocati dietro la coppia, Rodriguez-Bocalon. La seconda scelta potrebbe prevedere un classico 4-3-3 con Radunovic in porta, reparto arretrato a quattro, con il rientrante Puccino sull'out di destra, centrali schiavi e Bernardini sull'out sinistro vitale. Centrocampo con Minala della Rocca e Perico, in attacco tridente con sprocati Rodriguez e uno tra Rosina e Bocalon. Domenica andrà in scena il derby numero 20 in terrairpina. I precedenti sono a favore dei biancoverdi, con otto vittorie dell'Avellino. Non resta che attendere le ore 17.30 per il fischio d'inizio e sapremo finalmente quale sarà il verdetto finale di una delle sfide più calde ed interessanti del campionato cadetto.